Ciuurma eila avevo appena fatto una partita bellissima di Rising Storm e l'avevo registrata e invece non ha registrato niente e vabbè mi dico solo che avevo fatto 36 uccisioni e 16 morti e l'avevamo vinta cioè si vabbè questa di sicuro la perderemo però vediamo un po' di fare il possibile ecco per lanciarci a dominare il mondo di Rising Storm Red Orchestra intanto il tuo è già uscito non mi ricordo se il tuo è già uscito ho stato in Germania ok va bene assi al completo io vado con gli alleati allora ma prima ero ero fuciliere e mi piaceva molto cosa sta succedendo a sta persona come si è ammessi però stiamo perdendo di brutto come funziona questa dobbiamo difendere quello ahia ah l'asse ha catturato difendi 10 attacca ah nooo chi dove come qua eeeh vabbè ma gli altri sono bei fascisti no i fascistati brutti cattivi no allora vabbè questi li riconosco c'hanno il berretto strano e i miei nemici invece come sono messi ah noi abbiamo sto berretto strano ah no anche l'elmetto vabbè l'importante è capire come sono fatti i nemici perché poi sennò allora attacca questo sì questo è il mio il mio alleato ahia cosa dobbiamo cosa dobbiamo attaccare la nooo non ho capito neanche cosa fosse successo tanto per cambiare stiamo perdendo di brutto e non capisco neanche dove sono i nemici no ha sparato per terra che c'ha fatto cannavaccio come si chiama no hanno preso B no dobbiamo riprendere B ragazzi andiamo a riprenderci B si passa di qua mi sa di no mi sa proprio di no ah vabbè posso scavalcare qua forse dov'è B là ecco sono nemici infatti quelli ok li ho riconosciuti adesso ah la casa caverdogno la almeno come difendi C ci stanno prendendo anche C niente mi sa che è andata sono tutti i miei amici questi qua eh si niente non ne ha beccato neanche uno eh ciao ciao nel mondo ma perché sono così tanti tutti là l'altra parte che avevo fatto prima eravamo molto più distanziati cioè c'era del c'era un territorio molto più ampio come mappa ma questo è uno dei miei ahia eh beh uno l'ho tirato giù non basta ovvio ma hey devo capire un attimo come funziona questa zona non ci sono così tante coperture e sono tantissimi loro invece ma come sono no vabbè dai siamo abbastanza pari come numero ma non lo so vabbè uno ok dove dobbiamo attaccare davvero boh alleati attacco base del nilo che cosa c'è di là siamo difendi di attaccaci ma ci dov'è ci ah è qua sotto credo si no non capisco dove devo andare beh c'è un tizio lo seguo ah qua sotto forse è ci si ha senso mi ricordavo della live che c'era sta mappa e c'è sta scala che si scendeva giù nella mappa è qua ci o è ancora più in giù dov'è ci è ancora più in giù mi sa è ancora più in giù ci no non è più in giù non può essere più in giù aia ma 17 metri dove ah ancora più in giù di qua ok non conosco la mappa porca miseria sono qua no questi sono miei dei miei no quali sono i miei dove sono i nemici invece dove sono i nemici aia ma ah mi ha ucciso corpo a corpo non lo so non ho capito niente sono morto lentamente senza vedere niente ci avevo messo 73 anni da arrivare là sotto porca miseria come si è messi ci difendi base del silo ah del silo non del nilo ha anche senso vai giù no da dove lo sapevo questa qua la perdevamo di brutto guarda sempre detto cioè la scorsa l'avevamo vinta di brutto questa qua invece sono che cosa beh cinque quindici morti e un ucciso no dove è la parte per scendere là giù in fondo mi sa di sì dove c'era il quattro no ok allora forse è di qua non si capisce nulla si è qua ma c'è qualcuno lungo le scale sono qua sono sotto mi sa che sono sotto ma già l'X6 se ne sta tirando giù erano qua prima non capisco si questi sono miei alleati no si ahia non so da dove ma io scappo nel fumo l'ho ucciso no mi sa di no invece si eh niente capo unità ma perché il capo unità è là sotto provo punto 3 ma perché non mi fa spawnare dove ci sono gli obiettivi no no mi fa spawnare sempre qua che devo fare in tutte le scale eh no è ovviamente prima era di là adesso è di qua eh mi hanno catturato la base del silo ovvio dai che stiamo arrivando no sta mappa qua non mi piace per niente quello forse era un nemico eh sì infatti niente l'abbiamo persa questa di brutto ma perché quella di prima era una partita così bella e non la registrata invece questa qua dove non sta succedendo niente a parte che muoio stiamo facendo delle scale niente l'obiettivo della partita è fare le scale dove ok stanno scendendo giù quindi suppongo che bisogna andare giù ahia c'è morto quindi ok nooo np come dove lo scrivo np np come scrivo np non lo so boh ma è di qua no è di là che si scende si stavo andando ben giusto ah ma è già risalito le scale aia ciao e niente è stato un piacere ce n'erano altri qua sa di no ma visto che ce n'è qua sotto non so non so come si scrive però in chat volevo perdonarlo io quel tizio ma stanno toccando il primo piano aia nooo mi son mandato mi son buttato nel covo di ladri proprio però ho scoperto che ci sono delle altre scale cioè è un mondo di scale questo e stiamo finendo ovviamente i rinforzi e niente l'hanno spazzato eh mi spiace uccidilo vai e niente non lo saprò mai chi ha vinto eeeh di qua no e di là stanno attaccando il primo piano beh quello è morto non so se qua è ripulito mi sa di sì perché stanno scendendo giù tutti aia al pelo mannaggia che riflessi ma non capisco cosa succede quando c'è sto nero qua come mi hanno ucciso come mi hanno ucciso che è nero non è che muore di colpo this isn't fair boh del gas vele no che ne so io ho provato a sparare ma non capivo niente no non vedo niente io chi mi ha ucciso e perché niente sta qua malissimo proprio no no 46 non sono le morti o si boh ma ci sono anche delle scale esterne no vediamo qua c'è qualcuno che sta sparando qua aia 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 eeeh vabbè dai stiamo imparando un pochettino meglio come abbiamo fatto la mappa ma sta andando malissimo è tutto al chiuso ed è molto più difficile secondo me rispetto all'altra partita che avevo fatto quella appena prima di questa se scendo sotto mi ha ucciso uno aia 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 no 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 sushi musta di nuovo mi ha ucciso ero in un'ottima posizione per ucciderlo e niente è persa 6 5 4 3 1 rinforzi esauriti una volta che moriamo ciao ah io non sono rientrato eh mi sa di no eh no 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 stupido non morire così siamo rimasti in zero or in forte niente niente dove vai alexei dove spari scusa eh ma bloccati ma tanto non ne abbiamo più eh quanti sono rimasti dei nostri 1 2 3 5 sono eh ma degli altri non posso sapere chi è morto chi no niente carpo e venicolai sono rimasti carpo e venicolai rimasto muori davvero almeno guarda che ti stai circondando da dietro ciao e niente ho guadagnato un po' di onore 11 uccisioni sono salito di livello anche con il fucile si esco no cos'è boh questo ma in realtà io voglio uscire no volevo uscire f10 annulla ok niente io vi ringrazio per la visione mi spiace che la partita sia andata un po' così l'altra era stata molto 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 bella ecco ho fatto 15 morti e 11 uccisioni va bene anche troppo male detto questo io vi saluto vi ringrazio per la visione ci vediamo nel prossimo episodio di qualche video non so se vi può interessare un altro video di Rising Storm vi vi lascio un mi piace un commento e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto ciao a tutti buona giornata a tutti a tutti a tutti a tutti Autore dei sovrapposti